Ciao a tutti, bentornati a termoidraulica RV. Oggi vediamo insieme un addolcitore doppio corpo, in questo caso abbiamo una valvola Audotrol e l'addolcitore un 15 litri resina. L'addolcitore è un classico sistema appunto di addolcimento che in questo caso è un doppio corpo. Che cosa significa doppio corpo? Vuol dire che la bombola in vetro resina che contiene le nostre resine, in questo caso 15 litri, è separata rispetto al vano dove noi andiamo a mettere il sale e quindi a creare la salamoia. Poi attraverso un tubo che parte dal nostro sistema di salamoia arriviamo alla testata dell'addolcitore e questa salamoia serve per effettuare la rigenerazione delle resine e quindi a consentire all'addolcitore di effettuare il suo lavoro, cioè quello di addolcimento, di abbattimento del cartare. Quando abbiamo un addolcitore cabinato abbiamo tutto interno, quindi vetro resina, salamoia, tutto dentro e abbiamo uno scarico, uno scarico che o della valvola nel caso si tratta appunto di scarico principale che è quello delle rigenerazioni, o di scarico del troppo pieno. Lo scarico del troppo pieno in questo caso appunto, nel caso del doppio corpo, lo abbiamo direttamente sul tino salamoia ed è questo qua. Va collegato sempre all'uscita, quindi alle acque grigie e interviene soltanto in cui ci sia un troppo pieno, quindi un eccesso di acqua che vada appunto scaricato per evitare allagamenti. Qual è la dotazione di base quando si acquista un addolcitore come questo? Beh, nel caso di una valvola autotroll si ha un bypass, questo bypass va montato chiaramente dietro la nostra valvola e ha le funzioni di bypass apertura e chiusura. Questo ci consente di mettere l'addolcitore o in lavorazione, quindi l'acqua entra nel addolcitore ed esce addolcita, oppure chiudendo un bypass noi diamo acqua diretta al nostro impianto senza passare appunto dall'addolcitore. Altra dotazione di base sono i connettori, questi connettori sono da un pollice, si innestano dietro il bypass e vanno appunto collegati in ingresso e in uscita nel nostro impianto domestico. Chiaramente abbiamo un nostro trasformatore che va collegato alla valvola e che consente alla valvola appunto di lavorare correttamente, di effettuare le rigenerazioni e a noi di fare la programmazione necessaria per far funzionare l'addolcitore sulla base delle nostre esigenze della qualità della nostra acqua. Ogni addolcitore è chiaramente fornito di un suo manuale, eccolo qua, in caso della nostra autodrol, e ogni addolcitore doppio corpo è dotato anche di questo tubo che è il tubo che viene collegato poi allo scarico del nostro addolcitore e che va poi convogliato nelle acque griglie, come abbiamo detto prima. Passiamo agli optional. Qual è l'optional principale? E' questo qua, il produttore di cloro. Il produttore di cloro serve per sanificare le resini a ogni rigenerazione. Viene installato lungo questo tubo che porta la salamoglia, dal vino salamoglia, alla nostra valvola, e grazie all'elettrodo di titanio è in grado di separare NaCl, appunto il cloruro di sodio, liberando cloro e sanificando le resine al suo interno. Altro optional, non meno importante, è il bicchiere e un filtro in fila avvolto. Questa è una prefiltrazione che ci consente di abbattere la sedimentazione presente nell'acqua prima dell'addolcitore, quindi preservando l'addolcitore e le resine all'interno, evitando quindi che ci possano essere dei problemi legati alla sporcizia presente nell'acqua. Abbiamo visto com'è costituito un addolcitore doppio corpo e la differenza sostanziale è la separazione del tino salamoglia rispetto al corpo della valvola e della bombola in petroresina che contiene appunto le resine. Per qualsiasi ulteriore informazione continuate a scriverci e a contattarci su Whatsapp. Io sono Pasquale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!